Questo è il mio amico Ferro e se vince questa partita su Stamble Guys gli compro tutto quello che vuole C'è una piccola cosa che non sai fratello Che se perdi però subirai una penitenza ovviamente Io già l'avevo pensato ma cosa Dovrai scoprire Corri Hai due tentativi Se vinci ti compro tutto quello che vuoi ma se perdi verrai innaffiato fino al midollo Sta lagga No 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 ragazzi se lagga però non è colpa mia Non interessa non ci interessa se lagga No 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 Mi sa ragazzi che qua qualcuno verrà innaffiato No 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 ragazzi Uomo se non ti qualifichi neanche tra i primi 16 mi deludi eh Ma zio ma lagga troppo ma porca vacca no Corri Corri Te la faccio No Sì No Oh mio dio Però ragazzi l'ha toccato lui non vale questa Seconda partita la prima ammetto che ti ho fatto perdere io sono stato un po' Spindo round si chiama sta mappa zio questo amico Hai notato che si trova Gilda è molto più forte comunque Frate frate sai cosa va bene così non è un problema Corri 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 Dopo un po' se ferro si arrabbia ragazzi è la fine Esatto ragazzi Cioè voi non lo sapete purtroppo ma ferro Ok Hai avuto il buco di culo più grande dell'anno Tutto calcolato zio guarda che Ma non ci credo neanche se mi paghi che è tutto calcolato Eh Sì 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 ti assicuro che è tutto calcolato Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Ma Ci siamo Ok Ok Un'ottima qualificazione Fratello semifinale Ma è nuova questa mappa? No Sto giro non l'ho mai vista Comunque devi muoverti perché questa è stata la semifinale Però zio ma capisci che qua No 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 aiuto Eh potrebbe essere più complicato del previsto Bravissimo Già hai fatto la scelta giusta Ok Ma a traiardo ma non vinco Intanto inizio a chiedere Che cos'è che vorresti? La tua felpa zio Sai hai presente la felpa? Tipo sì Qual è la tua? Io ti dovrei regalare la mia felpa Scusami il video è quello Se vuoi farlo sì Se no ti attacca Cioè è costata un botto È costata quella felpa Vabbè no guarda io ti chiedo cose che costano 2-3 euro giusto da vicino Sì E se fossi un vero amico lo faresti vero? No neanche se fossi un vero amico Comunque Che pezzo di cacca Oddio No ci siamo bisogno E prima mi sono qualificato io E prima mi sono qualificato io Ragazzi qui c'è un problema Se tu vinci anche la prossima io ti devo regalare la mia felpa E se io dovessi perdere tu mi innaffieresti Che sarebbe la cosa migliore Meglio vincere ragazzi Meglio vincere Guarda adesso la finale Deve metterci tutto Devi giocarti nei cavi di casa Ma lo sai che ci sono tipo i pro player che fanno le mosse speciali E mi sa che non sei tu più Fidati sono bravo eh Però sei in terza posizione eh No 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 lo so ma è normale Eh lo scheletrino lo vedo a cattivo eh Lo scheletrino lo vedo a cattivo Ragazzi potrebbe essere la parica Oddio lo scheletrino è caduto No raga se muore uno davanti hai vinto No il lag Il lag ora no No vabbè guarda quello Oddio La fa La fa Il fenomeno lo chiamano No Il lag Aspetta Aspetta No Ma da No ragazzi Non ci posso Ah in realtà io godo Adesso invece no Ragazzi lasciate un bel like Perché adesso ferro verrà innaffiato Vai a quel paese Vai a quel paese Dai vieni Abbiamo finito Era ovvio che non abbiamo finito Quest è il tuo momento Adesso dovrei fare 20 giri E trovare una speciale Per farti comprare da me Tutto Quello che vuoi Mi piace fratello Di solito con il tuo account Si ha abbastanza fortuna 10 giri 10 parti uomo Gira Quanta gettoni con i tuoi soldi Sono molto Trovi al tuo colpo urlo Oh mio dio Vado va bene così E ti dico almeno una leggendaria ce l'abbiamo Dentro la speciale pirla Prima si trova la leggendaria che è quella un po' dei pirla E dopo la speciale Guarda che a te non sembra Ma 20 giri vanno via come se fossero nulla Perché me ne frega fondamentalmente Adesso io te ne frega Questa No Il fare Dai Dai Ma tu ti inventi questi video E poi godi se io non le trovo Non ho capito Io godo se non spendo soldi E se fai tutte le penitenze estreme Ah ecco Io vi do la possibilità Di farvi comprare quello che volete Però voi se la accettate Accettate anche la penitenza Che vi faccio fare Voglio la tua macchina Va bene Ma tanto non troverai una speciale Ah davvero? A me la daresti? Certo Ok 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 Ti prego dio dell'universo Sai cosa fare Tutta la fortuna della mia vita Devi darmela adesso Io adesso sto sperando Che tu non trovi una speciale Ti prego ti prego La macchina di refe La macchina di refe Eh sì Mi mancano ancora La tua macchina sarà mia oggi È bella questa speciale Ti piaciuta? Aspetta era quasi speciale Ed sono già finiti dieci tiri eh? Era quasi speciale Dai attento fratello Vai parti Gli ultimi dieci Secondo me devo farlo una alla volta No 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 Sono dieci di fila Dai Ok vabbè Anche se una alla volta Di solito funziona meglio Da quello che so Attenzione Io ovviamente non ti posso far usare i cheat Per vincere Eh invece io vorrei tanto usarli Lo squalo che fa davvero schifo Anche perché ragazzi Questi giri qua A me costerebbero Tredicimila euro Come minimo Ah Diciamo che tu potresti vincere Tredicimila euro Bello Tipo caduta libera Neanche signore Mamma mia Stovera me Ragazzi non avete idea Di quanto godo Quando non vedo la speciale In questo caso però Non godo Attenzione Infarto per refe E invece Non ci sono andato Nemmeno vicino Sti tici giri Ma che sfida Oh Ehehe Bro No Hai maledetto il tuo gioco Cioè ci hai creato Le macumbe addosso Letteralmente Di una Godo Godo Non è possibile Sta sfiga della mia vita Cosa ho fatto Di male signore Hai fatto tante cose brutte Secondo me questo è il cappello Che porta Aspetta 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 Mamma mia Mamma mia E la tattica di togliersi il cappello Funziona Non hai idea di quanto io stia sudando In questo momento Di nuovo di una Levati Speciale Levati Dai dai che ci sei quasi Ci sei quasi Ci sei Io credo in te Credo in te Se 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 Non è possibile È finita È finita Non è possibile Allora io mi tengo la mia macchina E tu ti mangi il peperoncino più piccante No Oh sì E quindi fratello Best Questo deve finire tutto No no Tutto Ah volevi vincere Sono 40 gradi fuori Se tu avessi vinto avessi vinto 13 mila euro Almeno tutto un peperoncino in bocca Devi masticarlo bene eh Tutto 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 il peperoncino in bocca No Dove stai andando No fermo Almeno di 10 secondi Stai qua Stai qua Stai qua Stai soffrendo Sofferenza Dolore Vai Vai Questo è il mio amico Powa E adesso dovrà fare mille salti con la corda in 5 minuti Se non un pochino di più Perché non so quanto sia record mondiale Sto sudando E se ce la farà signori Potrà ricevere da me tutto quello che vuole Powa sei pronto? Sì Salta qua la corda Gli ha una sonda di in faccia Ovviamente io mi ero preparato qualche asso nella manica Per mettergli un po' i bastoni tra le ruote In realtà i bastoni tra le ruote se li mette da solo Ok 4 C'è 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 180 mila Sì ma io mi dovrò pure riposare o no? Vuoi saltare per questi 6 minuti? Ma cos'è che hai in mano scusami Frate è un regalino che ti arriva tra poco Ma cos'è che c'è dentro? È un uovo di Pasqua Ah me lo devi mangiare? Sì è di cioccolato Continua che sei solo a 30 salti Super veloce sì Eccolo Ma che carico Primo Ma non era fatto di cioccolato Vuoi continuare Gli mancano però 4 minuti e 30 ed è fermo La corda ha fatto vista propria La corda gli si è girata intorno a tutto il corpo Non lo so la sto Sto saltando la corda È sbagliato Pua Salta quella maledetta corda Secondo me qua c'è bisogno di motivarlo ancora di più ragazzo C'è bisogno di una motivazione Diciamo più forte Salta quella corda Io la sto saltando Sono bravi ci vuole vedere Io non ti vedo saltare Voi lo vedete saltare? Io no Non lo stai saltando vai Guarda Qualcuno Vediamo un attimo Mancano solamente 2 minuti ed è tipo a 200 salti Nemmeno Ne mancano 200 sono tantissimi 200 Serve più motivazioni a quanto fare Pua Io ragazzi non gli regalerò nulla Mi ha rotto nel palco di fare mille salti Nei fatti 205 minuti Oh ma sai che il mio record è 250 E quindi signori miei Il video di oggi può terminare qua Mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Io vi ricordo che siamo sempre più vicini Ai 100.000 iscritti Quindi mi raccomando Invitate tutti i vostri amici a iscriversi Detto questo La vostra edizione è tutto Bella boys Ciao